Partecipiamo a questo evento raccontando un'esperienza pratica di come l'agenda ONU 20 e 30 sia stata utilizzata per indirizzare la programmazione e la progettazione dei progetti di servizio civile dello scorso anno. L'anno scorso Anci Lombardia si è trovata ad affrontare una complessità significativa nella stesura della progettazione del servizio civile. Andava infatti individuato un modello per orientare la progettazione e per definire obiettivi, fabbisogni e criticità. Abbiamo analizzato gli obiettivi dell'agenda interrogandoci se quello strumento fosse lo strumento utile e necessario, quello che faceva il caso nostro per risolvere la complessità della progettazione. Studiando l'agenda e conoscendola nel dettaglio abbiamo capito che poteva essere lo strumento utile per interrogarci sulla funzionalità, per interrogarci sulle finalità dei nostri progetti e soprattutto era lo strumento utile per dare una risposta alla necessità di standardizzazione della progettazione. Abbiamo quindi selezionato gli obiettivi dell'agenda che potevano fare al caso nostro e abbiamo scritto tutti i progetti di servizio civile che riguarderanno 1.344 ragazzi che svolgeranno servizio civile nel 2019, li abbiamo scritti ispirandoci agli obiettivi dell'agenda 2030 e trovando nell'agenda un indirizzo e una soluzione per degli standard di progettazione che andassero oltre il livello locale, oltre il livello regionale in una dimensione utile per una buona programmazione.